Pace, grazie e buongiorno a tutti. Fra un paio di giorni sarà Natale. È Natale il periodo tipico nel quale ci si scambia regali. Perché? Perché nonostante il progressivismo, il liberalismo, le idee moderne del fatto che non dobbiamo neanche dire in inglese, non si dice Happy Christmas o Merry Christmas perché Christmas ti ricorda Cristo e allora magari si può offendere qualcuno e allora dicono buone vacanze, buone feste, per non offendere nessuno. Nonostante quello Natale esiste solo per uno scopo, solo per un motivo, solo per una ragione. Non esiste perché c'è Babbo Natale che scende con la slitta, con la barba bianca. Esiste solo perché un giorno Dio ha dato, Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, ha dato un regalo, ha fatto questo regalo all'umanità che si chiama Gesù Cristo, che ha dato il suo unico figliolo, che chiunque lo accetta, chiunque scarta questo regalo, chiunque se ne appropria e lo fa suo, non perirà mai ma avrà vita eterna. Quindi c'è un regalo che si chiama vita eterna, che si chiama salvezza, che si chiama perdono, che si chiama Vangelo, che Dio ti offre in questo momento, anche attraverso di me, anche attraverso, ma che sia Natale o no è relativamente importante, ma Dio ha fatto questo regalo per dirti una cosa, io ti amo così tanto, ti accetto così come sei, ti voglio così tanto nella mia casa per tutta l'eternità, che ti ho fatto un regalo, questo regalo è la vita eterna, questo regalo è la vita di mio figlio in cambio della tua. Se tu lo accetti, se tu lo scarti, se tu vai, che tu abbia l'albero di Natale o non abbia l'albero di Natale è relativamente importante, non c'entra niente, non mi venite a parlare di feste pagane, sono tutte scemate. L'albero di Natale non ti fa andare all'inferno come non ti fa andare in paradiso, come il celebrale Natale con il presepio non ti fa andare all'inferno come non ti fa andare in paradiso, è solo il sangue di Cristo che ti fa andare in paradiso o se non ce l'hai ti fa andare all'inferno. Quindi non lasciamo perdere quelle cose lì che sono bagianate, che fanno ridere il mondo, guardano il mondo, guardano la chiesa e si fa due risate. Quindi che tu abbia l'albero di Natale o no, ma Dio ha depositato sotto questo albero, che albero era? Dov'è che Dio ha depositato questo regalo? sotto l'albero della croce. Sapete che nell'ebraico originale la parola albero, la parola legno, la parola palo, la parola croce è la stessa, è la parola ets, E-T-S. E questa parola vuol dire croce, vuol dire palo, vuol dire... E' lì dove Dio ha preso la vita di suo figlio e l'ha messa ai piedi della croce per farti il regalo ai piedi dell'albero. E' questa bellissima tradizione che purtroppo effettivamente viene da riti pagani, eccetera, eccetera, eccetera. Però trova le sue radici in che cosa? In Dio che ha dato la vita di suo figlio, di Gesù Cristo, l'ha messa ai piedi della croce perché tu possa trovare il tuo regalo. Paolo stesso negli Efesini 2,8 dice siamo salvati per grazia attraverso la fede e questo non per opera vostra, ma è un regalo di Dio. E' un regalo di Dio, un regalo di Dio. La salvezza, il perdono, la vita eterna, è un regalo di Dio. Non devi fare niente per guadagnartelo. O la religione, che sia cristiana, che sia evangelica, o che sia cattolica, o che sia pentecostale, la religiosità ti dice sempre che devi fare qualcosa per guadagnarti questo regalo. Ma un regalo è un regalo. E Paolo dice tutto quello che devi fare è accettarlo, scartarlo e ricevere quello che c'è dentro il regalo. Per grazia Dio lo ha messo ai piedi della croce, attraverso la fede tu vai, lo prendi e lo scarti. Io ho fatto un piccolo acronimo, non so come si dice, però in inglese, sulla parola GIFT, che vuol dire regalo, GIFT, G-I-F-T, vorrei dirvi un paio di qualità, un paio di caratteristiche di questo regalo, che è appunto basato sull'acronimo GIFT. G sta per grazia. Grazia perché? Perché il regalo non è basato sulla bontà del ricevente, ma il regalo è basato sulla bontà di colui che dona. C'è un cartone di Charlie Brown dove lui torna a casa con dei biscotti in mano e Lucy, la cattivella, la bambina cattivella, gli dice, cosa hai fatto di buono per guadagnarti questi biscotti che la signora Wilson ti ha dato? E Charlie Brown la guarda e con il suo volto impassibile dice, la signora Wilson non mi ha dato i biscotti perché io sono stato buono, mi ha dato i biscotti perché lei è buona. Il regalo non è basato sulla tua bontà, il regalo è basato sulla bontà del donatore, è lui che ti dà. E quando Dio ti dà la vita eterna non è basata sulla tua bontà, non è basata su che tu te lo meriti o non te lo meriti, o che sei stato buono o non sei stato buono, quello è quello che ti dice la religione, se stai buono, se sei santificato, se preghi di più, se credi di più, allora ti ha... No, un regalo non è basato su quello, un regalo è basato sulla grazia e la grazia non richiede niente da te perché il regalo è dato perché Dio è buono, non perché tu te lo meriti o perché tu sei buono. La seconda lettera, gift, G, grazia, I, individuo. Individuo, cosa vuol dire? Vuol dire che il regalo è messo a fuoco, è dato specialmente per quella persona, non per tutti, non è un regalo per tutti, anche se la vita di Cristo ha pagato per la redenzione di tutta l'umanità, da Adamo fino all'ultimo uomo che mai calcherà il suolo di questo pianeta, anche se lo ha fatto per tutti, è individuale, deve essere ricevuta individualmente, è come se tu comprassi per il compleanno di tua moglie e gli comprassi un trapano elettrico, non è individuale, magari c'è anche qualche moglie che gli fa piacere, però a mia moglie farebbe più piacere un profumo, un viaggio, una cena, un mazzo di fiori, perché è individuale, il regalo è fatto individualmente verso la persona, ecco perché Gesù non è venuto, il regalo di Dio non è venuto incartato in carta nella Bibbia, non è venuto incartato in carta, non è venuto incartato in carne, perché è individuale, perché deve parlare a ognuno di noi individualmente, la parola di Dio non è inchiosto su carta, la parola di Dio è voce in carne, è lo spirito dentro lo spirito di Dio, dentro queste parole, dentro anche quello che dico io, Dio ti può parlare attraverso anche quello che dico io, la parola di Dio attraverso un video, attraverso un tramonto, è individuale, il regalo è individuale, G grazia, I individuale, F, gift, F sta per free, and free vuol dire gratis, vuol dire libero, senza pagamento, perché? Perché la natura del regalo è proprio questa, la natura del regalo è proprio che il regalo è gratis, non lo devi pagare, se lo devi pagare non è più un regalo, ecco un'altra cosa dove la religione invece ti dice no, 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 perché allora tu se non ti comporti bene, se pecchi troppo, allora Dio si riprende il regalo, ma che Dio è? Ma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Allah, stiamo parlando di Buddha, stiamo parlando di, ma di chi Dio stiamo parlando? Non del Dio dei cristiani, non del Gesù Cristo, perché Gesù Cristo dice io do la mia vita per loro, le mie pecore sono nelle mie mani e nessuno potrà mai toglierle dalla mia mano o dalla mano del padre, Giovanni X, controllate, vedete che dice eterna vita, nessuno potrà mai toglierla, se nessuno potrà mai toglierla, una cosa eterna è eterna, se no non è un regalo, se no è un regalo condizionato, se io ti faccio pagare per un regalo, cos'è? Ti do il regalo se mi paghi, cos'è? allora è una tangente, è una bustarella, o se non ti do il regalo, se non ti comporti bene, allora cos'è? Una minaccia, non è un regalo, il regalo è, tieni, questo è tuo, è una volta che è tuo, amore mio, una volta che è tuo, una volta che il regalo ti è stato dato, non può essere preso indietro, perché non sarebbe più un regalo, se è un regalo è dato una volta per sempre, che tutto lo merichi o no, free, gratis, senza la richiesta di niente, assolutamente, se no non è un regalo, è o una bustarella, o è una minaccia, ma non è un regalo, quindi gift, G grazia, individuo, individuale, F free o gratis, T, T per tempo, tempo perché cosa vuol dire? tempo che è basato, il regalo è dato a te adesso, ed è basato su colui che tu sei adesso, non domani o ieri, il regalo non è basato su quello che tu hai fatto ieri, e non è basato su quello che tu farai domani, perché di nuovo, ripeto, se è basato su ciò che fai domani, il regalo non è più un regalo, ma è una bustarella, e se è basato su quello che hai fatto ieri, il regalo non è più un regalo, ma è un modo di controllare, un modo di controllarti, se ti comporti bene ti do questo, se ti comporti male non te lo do, quindi è una specie di ricatto, una specie, il regalo non è basato su quello che hai fatto, e non è basato su quello che farai, il regalo è basato su quello che sei, su chi sei adesso, tu sei mio figlio, ti faccio un regalo, tu sei mio amico, se ti faccio un regalo, tu sei una persona che non ti conosco, però io sono buono, ti faccio un regalo, ti faccio un regalo, il regalo di Dio è basato soltanto sull'adesso, non su ieri né su domani, è basato su oggi, perché Dio è io sono, Dio non è io ero, Dio non è io sarò, Dio è io sono, poi un altro gift, quindi gift, G grazia, individuo, F free o gratis, T tempo, e c'è anche un'altra possibilità sul T, che sarebbe quella in inglese, thanks, che vuol dire grazie, perché? Perché è l'unica partecipazione, l'unica cosa che viene richiesta a noi, quando Dio mette quel regalo ai piedi della croce, e ci dice, questo è il regalo della vita eterna, del perdono, della salvezza eterna, ci chiedi di dire grazie, ma anche quello è relativo, perché anche se non dici grazie, il regalo ormai ci è stato dato, l'unico motivo per cui tu dovresti dire grazie, tu ed io dovremmo dire grazie, è perché dicendo grazie, vuol dire che lo abbiamo scartato, e sappiamo cosa c'è dentro, vuol dire che ne stiamo usufruendo, ne stiamo ricavando dei benefici, quindi ti incoraggio di grazie, perché soltanto dicendo grazie, tu puoi ricevere quello che Dio ha fatto, per te, quindi, tra un paio di giorni sarà Natale, ci scambieremo dei regali, ricordatevi che il regalo più grande, è quello che Dio ha messo ai piedi della croce, ai piedi di quest'albero, incartato, non in carta, ma in carne, e si chiama Gesù Cristo, e ha dato la sua vita per te, ha dato la sua vita per me, è un regalo che tu devi prendere, scartare, e goderne di tutti i benefici, soltanto ricevendolo, senza dovertelo guadagnare, senza dover cambiare chi sei o chi non sei, senza pensare di dover fare qualcosa per essere buono, perché il regalo non è basato sulla tua bontà, è basato sulla sua bontà, il regalo non ti viene dato perché tu sei buono, il regalo di Gesù Cristo ti viene dato, offerto, perché Dio è buono, e quindi, che Dio vi benedica, buon Natale a tutti, con albero, o senza albero, lasciate stare quelle bagianate, godetevi la presenza di Dio, godetevi l'amore di Dio, e soprattutto, godetevi il regalo, della salvezza, del perdono, e della vita, eterni. Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica.